Ecco me Simo ragazzi un minuto simbolico un minuto simbolico un minuto simbolico davide mi raccomando davide ma che sappiamo certo ma che scherzati oh attento al certo che tirava dietro a termine di quest'azione mezzo lì lo fate la palla va fuori bravo bravo bene Grazie. 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 Rimaniamo, rimaniamo, rimaniamo. Rimaniamo. Rimaniamo, 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 rimaniamo. 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 Grazie. 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 Un'altra. Aprende. Via. Un'altra. Un'altra. Come spalle. Occhio. Deccolo, carico. 3-3, su. Vai, dai, dai. Vai, dai. Tira. Via. Ehi, torniamo! Stato, pronto! Stato! Stato! Ecco, lo sto qua! Sto scaldato! Stato! Di qua, di qua! Stato! 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 Scusatemi! Uno per uno, non li perdiamo! Stiamo con i fastidi! Sto arrivano fino a forza! Fanno girare, fanno girare lui! Stai a vedere! Uno spalla che sennò entra! Bravo! Alla prossima cambio per i verdi! Cambio! Cambio! Un attimo, un attimo! ... Grazie. 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 Grazie a tutti. eh scusate troppo forte la prima prossima ma che voglio la prima prossima 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 la 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 prossima